buon salve a tutti io sono sempre not me e bentornati su overlord ed eccoci tornati allora cosa dovevamo fare cosa dovevamo fare dovevamo dovevamo aiutare quelle pigne in culo degli elfi quindi si sente che sono raffreddato io ho una voce orribile sicuro fa niente si l'avevo già vista grazie no mai soprattutto mi daranno mai dei servienti no torniamo a piedi verso i servienti allora a te cosa mi tocca fare servienti che bastone hai ragazzo è figo passiamo un po sui cadaveri di mani così ha ti è su un cadavere di mani si ha ti è allora prima cosa no che schifo ti prego no ti prego ma via massacro vedete di non morirci però bravi uccisi troll va tutto bene vero via nelle terre dei nani o penso dove andiamo a uccidere il loro grande eroe allora a questo punto visto che mi hanno chiesto così tanto aiuto che siete in 12 per ucciderne uno o no ma voi non fate niente elfi abbiamo distrutto un'altra radice di omicron per seo 8 dobbiamo distruggere solo quella la e devo ancora capire come si fa ad andare anche perché la c'è roba utile no rane ci sono le rane di one shotto io vieni vieni qua ha si fa così si fa no 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 lasciate in pace i miei amici ok tu sei ancora vivo si cos'era cosa cercavi di fare ok muori ok 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 ci siamo ci siamo ragazzi so che non farete danno assoluto metto anch'io a picchiarla un po dai vediamo ciao ober ti sei svegliato come stai addirittura già questo vuol dire che vuoi combattermi cos'è beh picchiate che schifo cioè hai delle radici nel cervello chi arrivano ho paura chi arriva le radici no verdi che casino faccio quando cammino gli unicorni attenzione picchi agli unicorni picchi agli unicorni quanto sono resistenti vabbè ma cosa siete siete più resistenti del boss ancora un po e vabbè i troll adesso anche no bo ci penso io e anche il minotauro no ci muoiono ma porca verdi voi siete bravini in questo più o meno via 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 buona come come si è esploso dalla sua schiena uccidetelo ora oh che bello dai che muore ma quindi sarebbe una cosa buona da fare vabbè ti vengo a picchiare l'hai chiesto tu salve o quanto grande sei non l'avevo notato ma quanto grande sei vabbè ciao ora esplode ora è che si è davvero esplode ok sono tutti felici perché ho concesso a Ober vero? sei felice? si è abbandonato al sonno eterno sono uscito dalla foresta hello siamo arrivati a colline dorate la madrepatria dei le terre dei nani quindi ci sarà mi stanno già simpatici allora oh oddio quello là è grosso ma davvero devo combattere contro quello ecco i nani delle botti che camminano anche perché il verde è morto esplodi esplodi ora 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 si che cosa divertente entra in casa loro distruggi la loro famiglia questo sarà ricordato come il grande sterminio dei nani no volevo suonare le campane volevo oi e tu e tu così a tradimento beh ragazzi io direi che con questo staccheggio è abbastanza e questo sterminio è abbastanza io continuo ancora un po' giusto per uccidere grazie per aver guardato il video spero vi sia piaciuto e lascio il link della pagina facebook in descrizione come sempre ci si rivede alla prossima oh my goodness oh my damn oh my goodness and oh my goodness e